Musica Melodesi Melodesi è stato il mio medico, mi ha intanto a guarire, ma mi ha regalato anche un grande insegnamento, che noi e le nostre malattie siamo la stessa cosa, ma che però ci si cura, ci si cura sempre, da tutti i nostri mali, del nostro corpo e della nostra mente. Grazie Umberto per tutte le gole tecniche, compreso, e questo è tutto il nostro progetto. Purtroppo non posso dirti buon viaggio, perché non ci hai mai creduto, e Dio nemmeno, ma ti dico che resterai per sempre ai nostri cuori. E' qualcuno che ci lascia in dono il metodo scientifico come antitodo agli oscurantismi, alle superficialità, alle volgarità, ai pressapochismi che sembrano, come dire, dilagare nella nostra società. E questa insistenza sul metodo scientifico credo sia l'apporto culturale così importante che ci lascia e che forse ancora non abbiamo completamente capito.